salve e ben trovati in questo nuovo video oggi modificheremo questo collettore essendo una minimoto replica quindi cinese e avente il carburatore anche cinese praticamente il collettore molto duro e il carburatore non riesce a entrare al massimo quindi il ragazzo che me l'ha venduta questa minimoto andava in giro con il carburatore mezzo di fuori questo assolutamente non non possiamo permetterlo quindi andremo ad asportare un po di materiale dal collettore per farlo utilizzeremo questo tipo di fresa che è per metalli ma se fatta girare velocemente comunque adatta anche per la gomma vediamo grazie a tutti Allora, sicuramente questo collettore non è il massimo e andrà cambiato un giorno perché qui purtroppo c'è una specie di guida flussi che non fa assolutamente il suo lavoro e niente, sicuramente questa parte che si alza bene non li fa ma diciamo che quando poi il tutto sarà serrato non dovrebbe dare più di tanti problemi Comunque, il collettore è fatto, è abbastanza liscio quindi come potete vedere anche la gomma si può asportare si può lavorare con le frese vediamo se il carburatore adesso ci va beh, devo dire di sì grazie a tutti grazie a tutti